ragazzi andiamo avanti con le interviste qui al festival e abbiamo un ospite d'eccezione abbiamo con noi mister show time in the building già lo sapete la quality the quality ragazzi allora andiamo a chiedere direttamente a giampaolo come posso chiamarti gp giampaolo show time qual è il nome che ti piace di più gp show time ma non mi chiamare giampaolo altrimenti vuol dire che non mi conosci infatti adesso che ti conosco sarai sempre gp allora la prima domanda che volevo farti intanto è quando iniziato calisthenics e anche il motivo per cui iniziato calisthenics inizio calisthenics all'età di 19 anni perché ai tempi facevo kickboxing ed ero molto magro e già mi pagavo l'iscrizione agli allenamenti di kickboxing quindi non avevo anche i soldi per pagarmi un'iscrizione in palestra e di conseguenza cercato su internet ho trovato un metodo alternativo che era appunto calisthenics è cominciato top top quindi ha iniziato a questa età e adesso ai 31 anni 31 anni quindi da un po che sei nel mondo del calisthenics all'inizio praticamente sei tra i primi da allora però ti sei evoluto sei cresciuto sempre di più finché il tuo allenamento è cresciuto sempre di più si è diventato sempre più forte ma anche a livello imprenditoriale a livello di personalità tua si è cresciuto sempre di più con questa crescita adesso come la tua vita cosa fai come organizzi le tue giornate ti alleni e organizzi il tuo lato imprenditoriale esatto è tutto stato molto una cosa che tira l'altra inizio mi allenavo per me stesso poi le persone mi dicevano guarda che quello che fai tu è particolare speciale ci devi cercare di divulgarlo su internet poi iniziando a divulgarlo su internet ho cominciato anche a spiegarlo e insegnarlo poi sono diventato un trainer e adesso vivo cercando di creare sempre nuove opportunità creatività e cose del genere se tu alla fine sei più che altro un imprenditore un creator non credo che segui tante persone sono pochissime le persone che segui prima ne seguivo di più poi ovviamente se vuoi fare le cose bene devi darti delle priorità quindi adesso ripartirò anche con insegnamenti però sempre di più online perché online arriva più persone certo e comunque sia io sono uno che punta i risultati quindi sono uno anche molto solettivo se vedo una persona che crede certo in se stesso in quello che vuole arrivare allora lo seguirti più volentieri certo 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 e a proposito di questo quindi diciamo la tua vita adesso è incentrata più quindi sulla creazione di contenuti essere creativo portare delle cose alla gente un messaggio io a me sembra che te vuoi proprio portare un messaggio attraverso tutto quello che fai perché non fai solo calisthenics anche altri magari hobby che sono diventati comunque un lavoro perché hai pubblicato una canzone giusto sì io tutto quello che faccio è cercare di motivare le persone a mettersi in gioco quindi all'inizio era nel calisthenics poi dopo con la quarantena non poteva essere più solo calisthenics ma doveva essere una cosa proprio ampia quindi allenarsi a corpo libero con quello che avevano una volta che non c'era più la quarantena ho cominciato a provare nuovi sport fatto anche un po di bodybuilding ho provato diversi tipi di discipline ho provato pole dance ho provato collars calcio nuoto ho provato tutto di più te sei un appassionato di sport in generale e di motivazione di metterti in gioco anche giusto è proprio quella la chiave e a proposito di metterti in gioco però tu lo fai una maniera diversa magari rispetto ad altri ovvero tanti lo fanno attraverso le gare e tu hai rifatto gare in passato io ho fatto gare in passato sono stato uno dei primi che si è messo in gioco nelle gare sono stato il primo ad aver fatto un campionato mondiale di calisthenics freestyle eccetera poi ovviamente io non sono uno che si che fa le cose per mettersi in gioco e basta ma sono uno che fa le cose e punta sempre in alto mi piace vincere non mi piace perdere e quasi qua in italia io parlo se continua a fare competizioni non avrei mai vinto perché c'è un regolamento di certo tipo forse io sono molto più alto rispetto alla media cosa sei alto 182 182 pesi adesso per 85 kg che il primo in italia pesa 56 kg non è una competizione alla pari il tempo di recupero lo stesso il tempo in azione lo stesso e di conseguenza se quelli fanno 5 set per arrivare alla finale io sicuramente al terzo set sono già spompato secondo te ha senso mettere delle categorie quindi nelle gare di calisthenics senza categorie di peso non puoi fare niente come mettere un peso massimo contro un peso gallo un peso leggero non è la stessa cosa il peso massimo consuma molte più energie è certo è uno sport che dipende molto da quelle caratteristiche individuali fisiche quindi c'è poco da fare quindi è iniziato a metterti in gioco comunque già dalle gare però poi è pensato al di là del fatto che magari il regolamento non potesse andare a premiare te perché il regolamento non la tua prestazione quindi è per questo motivo anche che si è andato magari su altri settori per essere più motivato a metterti in gioco quindi appunto nella fase di creator nella fase anche di partecipare a degli show televisivi giusto hai partecipato anche a degli show televisivi anche quello era un modo di metterti in gioco certo io ho fatto qualsiasi cosa che mi portasse a essere ascoltato da più persone alla fine se tu rimani nel tuo nucleo quello è quello che ti prendi più tu ti metti in gioco e più arrivi più persone ho fatto televisione ho fatto radio ho fatto un po di tutto ed è per quello che ho avuto tutto questo riconoscimento infatti dico sempre le persone mettetevi in gioco adesso ti vorrei fare una domanda che scegli tu se rispondermi o no perché io ascoltandoti io percepisco questo la tua voglia di metterti in gioco e essere motivatore viva più dal fatto di voler essere riconosciuto o di voler trascinare le persone a far qualcosa di grande io è la prima la prima ok sono un buon samaritano ok ok però c'è da dire che ho avuto un passato difficile quindi io per questo ti chiedo io sono uno di quelli che dice merito un futuro come dio comanda però per avere quel futuro come dio comanda non è che può stare seduto e dire me lo merito e basta devi farti esatto io lo faccio per me stesso poi la cosa figa che quello il senso che ho per me di riscossa le persone lo capiscono e poi si sentono anche loro tirati in mezzo da questo io comunque tutto quello che faccio lo faccio per me poi se mi motiva le persone eccetera eccetera mi fa piacere e continuo anche per quello poi sono due cose che vanno di pari passo hai capito il mio lavoro è motivare le persone allo stesso tempo io infatti dico io a loro ogni persona che viene da me mi dice tu mi stai motivando io dico ti ringrazio perché tu stai motivando me certo stai facendo capire che quello che sto facendo funziona hai capito quindi mi viene tutto molto naturale perché tutto naturale è sincero perché questa è mi ha dato una risposta totalmente sincera io ti ringrazio per questo anche tutti i suoi follower lo fanno esattamente perché capiscono queste cose qua allora ti volevo fare solo l'ultima mentita voi stessi regà cominciate a mentire voi stessi avete perso perché non sapete più chi siete veramente quindi siete sinceri con voi stessi siete sinceri con le persone che le persone lo capiranno top è questo messaggio importantissimo a dare a tutti quanti direi il più importante secondo me in ogni caso le ultime domande come vedi il futuro del calisthenics in italia o comunque nel mondo perché a volte si ha la percezione che ci sia un po una disgregazione del calisthenics o delle faide come la vedi te come sta evolvendo il calisthenics la vedi una cosa positiva negativa che dici è difficile è difficile perché il calisthenics è proprio davanti dagli atleti ogni atleta pensa alle sue tasche ogni atleta tira verso i suoi interessi e quindi siamo una concorrenza dove servirebbe qualcuno in alto una federazione esatto come in ogni cosa anche nello stato eccetera eccetera c'è qualcuno in altro che decide no e gli altri fanno ma se poi tutto il popolo invece quello che si dice che decide c'è sempre qualcuno che infelice hai capito quindi se c'è stato un atleta che preferisce un certo tipo di movimenti eccetera eccetera sicuramente daranno un voto più alto quel tipo di dove vuoi andare così certo c'è capito quindi io secondo me fino a quando ci sarà una federazione che prenderà poi dopo ci sarà sempre un po anche il sindacato dei degli atleti però deve essere comunque deve essere un po settoriale capito la roba è un po troppo e anche super partes deve essere in ogni caso obiettivo adesso tutti quanti fanno i video dicono il calisthenics sta andando stanno andando in rovina questi non capiscono che mettendosi in questo modo qua stanno soltanto rovinando lo sport sì perché magari lo fanno solo per le visual a me sembra che lo facciano solo per le visual invece non va bene qua è facile andare avanti facendo i criticoni ma è ancora la cosa figa è quando venite riconosciuti per cose positive perché a dire cose negative troppo facile già 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 io piuttosto non parlo neanche e dimostri con i fatti allora ultimissima domanda per chi ti guarda perché ovviamente sei come abbiamo detto prima comunque un trascinatore un leader che porta le persone a fare magari ciò che fai tu parliamo però del calisthenics che consigli daresti alle persone i ragazzi che magari vogliono iniziare calisthenics dopo aver visto i tuoi video e vogliono arrivare ad essere come te quali sono i consigli proprio per chi inizia allora prima di tutto non devono cercare di essere come me ma devono cercare di migliorare se stessi poi dopo di che quello che devono capire è che ogni cosa arriva con il giusto tempo e arriva più in fretta se lo fai per bene dopo di che bisogna essere costanti quindi bisogna anche essere pazienti e quello sono le chiavi fare le cose per bene essere costanti e credere in se stessi e cercare sempre di superarsi io ogni volta quando mi allenavo mi allenavo come come un pazzo la gente mi diceva ma perché ti alleni così tanto perché perché io volevo essere il numero uno quindi tu devi decidere tu quel posto vuoi se tu vuoi essere il numero uno devi allenare di più degli altri se ti basta giusto partecipare allora puoi anche fare un po di meno sta tutto quanto lì quanto più tu ti metti nelle cose più in alto arriverai questo è anche un altro messaggio importantissimo per tutti i giorni direi e detto questo io ti ringrazio tantissimo è stato un onore averti nel mio canale a portare questi contenuti questi questi messaggi per tutti quanti quindi a questo punto ragazzi beh ovviamente molto probabilmente sareste già iscritti sul canale ma nel caso iscrivetevi se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale mettete mi piace ci vediamo al prossimo video e un saluto da dalla quality con il fratellone mi raccomando iscrivetevi al canale mettete like e scrivete nei commenti che il fratello risponde è stradisponibile super ciao ragazzi e poi tutto non so se è chiuso fadè stiamo facendo un video se è chiuso questo lo tirava alla fine